La Banca degli Antilocali ha strumento di credito per rilanciare il sistema delle imprese e con questo l'economia. Il nuovo ruolo della Cassa Depositi e Prestiti a sostegno delle imprese e del territorio è stato al centro del seminario promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, istituto che ad oggi è uno dei maggiori azionisti della Cassa che avrà sempre più un ruolo strategico per il sistema paese. La missione della Cassa che è sempre stata quella di essere un istituto per lo sviluppo si sta evolvendo allargando la propria sfera di attività dal supporto agli enti locali che continua a rimanere una delle aree più importanti di attività della Cassa a quelli che riteniamo essere gli altri due motori per lo sviluppo che sono il finanziamento delle infrastrutture e il supporto all'attività economica del paese. Nel futuro la Cassa Depositi e Prestiti è destinata ad avere un ruolo strategico per il paese operando nei settori più importanti quale strutture, energia, rifiuti, acqua. A sottolineare l'importanza della Cassa anche l'assessore provinciale allo sviluppo economico e il sindaco di Lucca. Lucca sta dentro il contesto più generale del paese, c'è una fase di forte recessione che tra l'altro si sta accentuando e stanno soffrendo i consumi, c'è una difficoltà dal punto di vista dei pagamenti e dal punto di vista del credito per quanto riguarda soprattutto le piccole e le medie imprese. Mettere a disposizione nuovi strumenti per aiutare quindi le piccole e le medie imprese mi sembra di fondamentale importanza. La banca che sta avviandosi verso questa azione potente di sostegno grazie alle scelte esecutive a sostegno delle piccole e medie imprese io lo trovo un fatto di grande interesse che può ridare davvero sviluppo al nostro paese che in questo momento vive in acque molto turbolente.